Noi filosofi siamo abituati a guardare a ciò che si manifesta nei fenomeni, alle costanti speculative che si manifestano nei fenomeni. La cosiddetta arte contemporanea, se noi la intendiamo nel senso installazionale, si autodefinisce arte, ma per esempio uno Heidegger l'avrebbe subito bollata come non arte. Perché? Ma proprio perché non c'è un'istanza superiore che si coagula, che viene a manifestare e a proporre una, non vorrei usare visione del mondo ma per intenderci, no? E l'esposizione fine a se stesso. Beniamin, per tornare a Beniamin, Beniamin è importante, è importante proprio perché è il filosofo della cosiddetta dialettica inevitabile tra valore cultuale e valore espositivo di ogni opera d'arte. Cioè ogni opera d'arte ha queste due istanze sempre, le ha sempre insieme in proporzioni differenti, per cui noi abbiamo, ecco, nell'antichità, una prevalenza forte dell'istanza cultuale. Dall'antichità fino, possiamo dire, Beniamin in particolare dice, fino alla Madonna Sistina di Raffaele, proprio fino, naturalmente fino al momento in cui è la Chiesa, no? A essere la committente per eccellenze. Però, ecco, se da quel momento in avanti l'istanza prevalente sarà quella espositiva, non significa che quella cultuale si dita, né che prima non esistesse anche quella espositiva. Io ho fatto dei corsi su questo, quindi posso permettere, in ogni esperienza artistica comunitaria, cioè dei vari popoli, è evidente la doppia istanza. Nell'arte cosiddetta tale, contemporanea, è scomparso completamente, completamente il lato cultuale, se non in una ridicola controfigura di quello che era il culto in senso religioso. Abbiamo il culto degli artisti. Qualcuno potrebbe dire, cioè dei cosiddetti fabricati, qualcuno potrebbe dire, ma siamo perfettamente in sintonia con la secolarizzazione. No! No! La secolarizzazione non è un'invenzione, è una volontà di interpretare una certa direzione della cultura contemporanea, ma noi assistiamo ovunque, purtroppo anche per aspetti negativi, a una specie di immortalità, un ritorno a una perpetuità del valore cultuale dell'opera d'arte e anche di altro. Quindi ecco, per Benjamin, diciamo semplicemente, non voglio attribuirmi, ma per Benjamin l'installazione oggi è valore espositivo fine a se stesso, dunque fuori da quello che è l'opera d'arte, che deve mantenere entrambi le istanze per essere tale. Il cinema è meraviglioso, perché le mantiene. C'è una capacità, cioè c'è una religiosità anche nei film più atei. Santa Sangre, per esempio, non so se... Jodorowsky, tutto... c'è, ecco, ma c'è una cultualità nel senso più autenticamente religioso, cioè laddove è una energia luminosa, che diviene parte di una ritualità comunitaria. Nell'arte installazionale, arte sempre a fare piccolette, si estime solo se stessi. In Buñuel è una sensibilità collettiva. Ecco perché Benjamin oggi è ancora il punto di riferimento per comprendere anche i fenomeni artistici come ce li troviamo davanti, e soprattutto per imparare un po' a orientarci nell'attribuire valore estetico o meno a qualcosa che ci troviamo davanti.